Sempre dagli spogliatoi in attesa di fare questa grande serata qui al Baby K, Salsa & Friends, altri due ragazzi amici che vengono dalla Puglia, giusto? Esatto, sì, veniamo da Andrian, provincia di Bari, è la nostra prima esperienza qui a Ravenna, nel nord, quindi per noi è tutto nuovo e siamo molto felici di partecipare a questo congresso. Allora, li abbiamo visti oggi pomeriggio, io li ho visti, voi no perché non ho pubblicato giustamente e non volevo scoprire prima la loro performance, sono davvero bravissimi e ballano in coppia, da tantissimo? Insieme balliamo da poco, sono cinque anni che balliamo insieme, però in separata sede balliamo, sono per meno undici anni per ciascuno che balliamo. Quindi vi siete trovati in coppia, vi siete proprio trovati bene? Sì, perché il ballo unisce in tutti i sensi, nell'amicizia, nell'amore e tutto. Questa è una cosa che voi sapete, io vi ripeto, in ogni puntata, il ballo unisce, con solida relazioni, fa nascere amicizie, fa bene alla salute, tonifica, non l'ho pagata, ha detto le medesime cose. Esatto, fa bene al fisico, all'umore, tutto, tutto. Allora, siete un po' preoccupati, un po' di ansia per questa performance di questa sera o visto che vi siete trovati in famiglia con un filo di gas? No, in realtà non siamo preoccupati perché è già da un po' di tempo che comunque la pratichiamo, poi per noi è una passione, quindi lo facciamo in maniera molto spontanea. Beh, ho detto che siete proprio serenissimi. Sì, siamo tranquilli anche perché ormai lo facciamo anche di mestiere, quindi ci teniamo tanto a questo. Allora, che cosa presentate questa sera qui? Quello che presentiamo noi è uno show di salsa New York Style, abbiamo il piacere di presentarvelo, sperando che piaccia a questo. Sicuramente sì, e alla fine di questa intervista meravigliosa non so i loro nomi. Io sono Annalisa Pietrangela. Io sono Nicola Serino. Allora io ringrazio Annalisa e Nicola, siete simpaticissimi e vedremo questa sera state con noi perché ovviamente registreremo una parte della puntata e ve la manderemo in onda. Per chi non è qui con noi, peccato per lui e non si può godere questa grande serata. Mannaggia, grazie a voi. Grazie, grazie a voi. Ciao.